Tant'è che vorrei proporre, lo facevo agli amici, agli giovani studenti della facoltà di studenza la settimana scorsa, un piccolo apologo per dire di questa condizione patologica che mi pare bello e sul quale chiudo e dopo le assicuro non rispondo più neanche se mi rivolge ancora la parola. E' l'appolo che riguarda la storia di un direttore generale di una grande compagnia che aveva avuto un invito per assistere ad un concerto, lo dedico al maestro Agostino Urizio che è qui tra noi, a un concerto nel quale si interpretava tra l'altro la sinfonia numero 8 di Schuberlin, compiuta. Il direttore generale non poteva andarci, allora regalò l'ingresso al teatro al capo del personale, che era un giovane laureato alla Bocconi, master nella London School, si occupava anche di politica, voleva efficienza e giovinezza nella politica, che andò a sentire il concerto. Il giorno dopo il direttore generale chiese al direttore del capo del personale se gli fosse piaciuto il concerto e con sua sorpresa si risponde dal capo del personale che a mezzogiorno avrebbe avuto la sua relazione sulla sua scrivania. A mezzogiorno ricevette la relazione e cominciò a leggerla con sorpresa il contenuto che era diviso in cinque punti. Primo punto. Durante considerevoli periodi di tempo i quattro oboe non fanno nulla. Si dovrebbe ridurne il numero e distribuirne il lavoro tra il resto dell'orchestra eliminando i picchi di impiego. Secondo. I dodici violini suonano la medesima notte, quindi l'organico dei violinisti dovrebbe essere drasticamente ridotto. Terzo. Non serve a nulla che gli ottoni ripetano suoni che sono già stati eseguiti dagli archi. Quarto. Se tali passaggi ridondanti fossero eliminati, il concerto potrebbe essere ridotto ad un quarto. Quinto. Se Schubert avesse tenuto conto di questa mia osservazione, avrebbe terminato la sinfonia. Io vorrei vivere in un mondo nel quale si possa continuare a sentire la ricompiuta di Schubert così com'è. Grazie. 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 Grazie.